Valevole si presenta, abbiamo Luca e Arianna. L'abito fa il Monaco? No. Perché? Perché lui non fa tre. Perfetto, com'è andata la partita Luca? Era una partita combattuta, sicuramente dominata dalle nostre. Hanno avuto un leggero calo, ma tutto sommato per il punto di vista. Arianna? È stata una partita meritata, da parte nostra, perché abbiamo avuto le opportunità per portarla a casa. Questi tre punti ci servivano e andiamo avanti così. Luca, come vedi Arianna come giocatrice? Sosera un po' in calo, ma quando vuole fa la differenza. Arianna, come vedi Luca in panchina? È la seconda partita che viene ad accompagnare in panchina, è la seconda partita che vinciamo, quindi non porta fortuna. Perfetto, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao!